Ciao a tutti a Zuko, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in una nuova reaction dedicata a Black Panther. Oggi è uscito dal Comic-Con di San Diego con tantissimi annunci, il trailer, il primo teaser trailer ufficiale di Black Panther 2 Wakanda Forever. Come vedete siamo in stream su Twitch, vi ricordo che siamo live tutti i giorni, Twitch è gratis, con Amazon Prime di Anticolosi Vantaggi, trovate il link sotto il tasto del mi piace insieme a tutti gli altri social. Comunque, trailer di Black Panther che dura precisamente 2 minuti e 11, sono molto, molto, molto curioso. Andiamo. Allora, questo qua è il poster che non ha il titolo di Black Panther, c'è solo scritto Forever e c'è il design di quella che sembrerebbe essere la nuova Pantera Nera, perché mi sembra un po' diverso rispetto a quello che era il Black Panther di Challa. Trailer, come per She-Hulk, ovviamente, in inglese, con i sottotitoli, mi sa che si inizia con una canzone. Vediamo un pochettino com'è. 3, 2, 1, via. Questa è Nakia. Oh, ma quelli sono tempi a stechi, vero? È per Namor, quindi. Questa è l'Uakanda, la mamma. Okoyela a destra. Ah, questo cos'è? Il tri... È il... Cazzo, è il funerale di Challa, mi sa. Mi sa che quello è il funerale di Challa. Ciao. È sicuro il funerale. Stai sciuri. Chi è che è incinta? È il fio di Challa, come avevo detto. Però era sotto l'acqua, quindi no, ragazzi. Riguarda l'Annamor, appunto. No, niente. Ingrazzava, riguarda l'Annamor. Sono mozzatori, eh? Sono mozzatori molto incazzati. Ma Shura è diventata la regina, quindi, lì. Spera, Atlantide. Cos'è questo posto? Ok. Martin Freeman. Ironheart. Questa quanta roba. Questa è Atlantide che stacca il luoganda. Black Panther, Wakanda Forever. Novembre. Allora, a me il luogo così fa impazzire veramente tanto. Ma questa, quindi, è la nuova pantera nera? Questa è la nuova pantera nera? Che... Che cazzo è? È Shuri? Sì, potrebbe essere una donna. A me sembra un po' una donna, eh. Ok, vi dirò. Mi sembra un po' una donna. Ma mi sembra... Non lo so. Non lo so. Bel culo, però. E mi sembra un po' grande. Non lo so. Cioè, con tutto rispetto. Non lo so. Rispetto alle... Cioè, sopra ti dico una donna. Sotto... Vabbè, muscolosa. Però Shuri è piccolina. E quella è la cosa. Quindi... Boh, però tanta roba. E questa qua è... Eccola qua. Questa è aeronaut. Bello. Forse questi qua sono i personaggi dell'armatura. Ehm... Ehm... Fico comunque. Hanno fatto vedere 10 miliardi di cose. Non c'è dialogo. C'è solo musica. Bello. Tocca capire. Qua me ero confuso. Quindi questo qua sarà... Questo è Namor. Con la sua corona da re di Atlantide. E... E questo sarà forse il figlio di Namor. Oppure Namor da piccolino. In un... Nel passato. E... Che partorisce boh tipo di nascosto. Figa queste riprese. È veramente crossover con Avatar. Che è sotto l'acqua. Come gli oceani di Pandora. Figo. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Comunque. Nelle prossime ore vi porterò anche l'analisi di questo teaserino. In cui c'è una marea di roba. Quindi tocca capire un attimo cosa succede. Ci sono inseguimenti. Roba di qua, di là. Una marea di cose. Ne parliamo appunto nell'analisi. Fatemi sapere cosa ne pensate. È uscita anche la reaction a Shihulk. Ma soprattutto noi siamo sempre tra le stelle. Skatush!